E quindi è importante per me, prima di tutto, discernere nella preparazione per la lezione da dove iniziamo. E risulta che prima di tutto devo iniziare con l'intenzione, la Kavana. Se l'intenzione è dare contentezza al Creatore, bene qui abbiamo una domanda. Cosa devo fare per realizzare questa intenzione? Ricevere, dare, fare certe azioni che possono essere diverse, possono essere molto diverse, possono essere tali che nella mia vita fosse separare questa azione da quello che è importante, non è importante, questo no. Però non è in accordo a quello che stavo pensando in precedenza, ma in accordo al fatto che quando scopro che il mio obiettivo è stare in adesione con il Creatore, e questo si ottiene attraverso di fare il tuo desiderio come il suo desiderio, allora cosa devo fare? Che desiderio mio devo fare come il desiderio del Creatore, ossia per l'adazione. E quindi io devo iniziare con mettere sopra i miei pensieri una restrizione sopra tutti questi, in uno senso, perché tutti i miei pensieri all'inizio sono diretti su me stesso. Quindi se io posso elevarmi sopra di questo e cominciare a pensare solamente sulla dazione, allora qui già immediatamente mi trovo in uno stato di come lo faccio, dov'è questa forza dentro di me o fuori di me che mi aiuterà a fare una restrizione sul mio desiderio, perché il mio desiderio, in qualsiasi maniera a provare di girarlo, sempre sarà per ricevere, per guadagnare, per sentire, per capire, e quindi sono sempre di malumore, stressato, con pressione, non sono contento con la vita, non sono contento con me stesso, e in fine dei conti non sono contento con il Creatore. Sto costantemente calcolando cosa ho e nonostante io ho già imparato molto e capisco le cose in qualche maniera, anche così non posso uscire da questo sentimento di ricezione, e quindi succede, che cosa facciamo, cosa posso fare? Non c'è niente da fare, io costantemente sto ancora nel pensiero per ricevere, pensieri per ricevere, e se io voglio raggiungere l'equivalenza di forma, iniziare con l'equivalenza di forma, deve essere con l'intenzione di relazione, e penso nel Creatore, e quindi come faccio questo? Io non ho le forze, e anche se parliamo dell'inizio dello studio di un principiante, uno che comincia a studiare, è impossibile per me avere una cosa così, la forza di relazione, il Creatore non ha creato una cosa così, e quindi tutto quello che posso fare è chiedere al Creatore che lui mi dia questa cosa, da verso il gruppo, da verso la connessione con loro, se gli chiedo a lui, e i cabalisti mi dicono che noi possiamo comporre un sistema tale di connessione tra di noi, nel quale gli diamo al Creatore, e attraverso questo sistema della decina, lui ci dà a noi.